Ciao amiche e amici della vostra Gattaluna, eccomi qui sullo sfondo bianco, questo direi che per fare dei video di sera, che poi di solito vi faccio il video di sera, il diretto delle nove metà, punto adizione, dicevamo che questo sfondo bianco è tutto più luminoso per fare dei video serali e poi mi illudo di essere già abbronzata perché su questo sfondo così chiaro la pelle come vedete sembra un po' abbronzata, in realtà non lo sono, va bene, piccolo haul nella parafarmacia di paese, è una parafarmacia giustamente vista la stagione super specializzata su prodotti solari, non ha ovviamente tutte le marche del mondo però ha Rilastil, Nux, insomma parecchie cose, adesso ha anche un po' di skin care coreana, allora cosa ho preso? Ho preso dei prodotti già super sperimentati, in pratica vi ricordate che sto usando, se avete visto i video precedenti, sto usando in questi giorni un rimasuglio di solare spray di La Roche Posay, sempre SEPI F50, che uso per raggiungere tutti i punti della schiena, anche se io ho trovato un sistema di farlo se non ho lo spray con un prodotto in crema, perché riesco insomma a raggiungere tutti i punti, però è molto più comodo ovviamente lo spray, quindi lo uso solo nella parte alta della schiena in realtà che è quella un pochino più complicatina da raggiungere, però sta proprio finendo, ce n'è dentro ma poco 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 penso che posso usarlo un giorno, forse due, e allora dato che i giorni dovrebbero essere ancora tanti, se tutto va bene, ho cercato di Rilastil, questo qui che mi sembra un buon, una buona alternativa a quello di La Roche Posay, è praticamente, Rilastil è un brand italiano, di Milano mi sembra, e questa è la sua linea Sun System, di cui fa parte anche quel nuovo fondotinta cremoso che abbiamo visto, forse l'abbiamo visto, no no, l'abbiamo visto anche su YouTube, e ha questo comodissimo erogatore che vi consente, come si vede qui dal disegnino che è però molto piccolo, vi consente una erogazione in tutte le direzioni, al momento non esce fuori un tubo, va bene, poi abbiamo, in omaggio ti davano sempre di, se prendi i due prodotti Rilastil, se vi faccio vedere il secondo, in omaggio vi davano il dopo sole, idratante e rinfrescante, per ora, diciamo, il tempo non è proprio bello stabile, quindi non lo uso ancora, questo mi, ecco, naturalmente sono tutti, ho preso la linea per pelli sensibili, anche questo, pelli sensibili, senza metalli, eccetera, eccetera, e questo qua, in più, appunto, è per pelli sensibili che sono state esposte al sole, sì, se no cosa dovete fare il secondo col sole, va bene, comunque sia, l'altro prodotto, quindi oltre a questo, direi Rilastil che ho preso, è questo, l'Ultra Protector 100, quindi con due prodotti, qualsiasi prodotto solare, vi danno un omaggio a questo, dunque, dice, ma che te ne fai, l'Ultra Protector 100, non è un po' esagerato, questo lo uso, non in particolare, questo è la prima volta, ma prodotti con simili, eccolo qua, idratante e protettivo con protezione molto alta, e anche in caso di, che va a, ecco, qui dice, vale, come un SPF 50+, anche in caso di alterazioni cutanee e pelli sensibili, reattive, con fototipo chiaro. Sì, praticamente, di solito io usavo un prodotto di, quel brand tedesco famosissimo di Solari, va bene, adesso mi verrà in mente, per tantissimi anni, però qui lo vende solo un negozietto che non mi garba tanto, perché li tiene sempre esposti al sole, i prodotti, addirittura hanno sempre su un po' di sabbietta, bosso, questo invece, naturalmente, è una parafarmacia, tutto è assolutamente molto igienico. Questo qui, in pratica, è un SPF 50, perché più di 50, assolutamente, non esiste, le tenete la maglietta, e, però, nel caso, per esempio, vi viene un eritema, un principio di eritema, magari un eritema, magari un pochino di arrossamento, eccetera, vi potete esporre sempre con prudenza, con le norme, che sappiamo, questo invece è un merci, che vi riconosco da soli, questo qui, invece, appunto, vi consente, anche a colpello, perché è il film, di ristata, esporre al sole, magari, con un semplice, con un ombrellone, però, per evitare di avere la maglietta, fa caldo, mettete questo, naturalmente, sempre, con grano, salis, ok, quindi, in questo senso, perché, in realtà, come vedete, non c'è scritto SPF 100, perché sapete che, mi sembra, dall'anno scorso, SPF 100 non si può mettere, in quanto che non è corretto, non esiste la protezione 100, anche se, mi spiegava una ragazza, ha perfettamente ragione, la cifra indicata nell'SPF è il tempo di protezione, cioè il tempo dopo il quale deve riapplicarlo, la percentuale, diciamo così, non so come dire, o in molti, forse in molti percentuali, ecco, quindi 100, no, non esiste, non è corretto, infatti, correttamente, non lo dicono, dicono semplicemente 100, come dire, si fanno intuire che, insomma, è molto protettivo, sia a rigore, però non c'è scritto SPF. Poi, invece, proprio perché sono una curiosona, soprattutto la skin care coreana, mi appassiona molto, e questo è di Natur Unique Cosmetics, che tuttavia è made in Corea, e ho letto questo Yalu Collagen, cioè un collagene intensivo con acido yaluronico, è un booster rivitalizzante, illuminante, che aiuta a dare vitalità, energia e freschezza a tutti i tipi di pelle, è uno spray da usare solo sul viso, è un delicato spray che, grazie al collagene, all'acido yaluronico, con gli optidi, aiuta a rigenerare e a tonificare la pelle, l'attività sinergica dei suoi componenti, previene contrasti e segni di tempo, favorendo la vitalità, la luminosità e la bellezza della punta, usato più volte al giorno, regalo alla pelle una spezzata di tonificata energia, revitalizzandola e facendola risplendere. Ci mancavano le campane, no, è l'orologio in realtà. Lo spray è indicato per tutti i tipi di pelle, può essere usato solo oppure abbinato a altri specifici prodotti della linea Collagen Intensive Patch, film per le guance, per gli occhi o i solcol nasi labiali, questo è quello che servirebbe, fronte e collo, evitare il contatto diretto con gli occhi nel caso sciacquare, eccetera, eccetera. Non va applicato mai su pelle che non sia integra o irritato, affetta da qualche patologia. Sono 50 mililitri, è chiuso, mi sembra che sia chiuso da un pezzettino di scotch a tonno, non sapete quale è, come forse la specie dice, rottino in qualche modo, trasparente. Voglio dire che viene via piuttosto facilmente, confezione tutta dorata, dentro vediamo com'è, come l'erogatore. Eccolo qua, è una soluzione, mi sembra piuttosto acquosa. Ok, è uno spray, c'è il plastichino che la fa sì. Ecco qua, proviamolo sul braccio e vediamo cosa succede. Eccolo qua, massaggiamo un po', li vediamo, fresco, piacevole. Forse pretendo troppo, poi intanto così non posso mostrarvelo perché l'ho messo dalla parte sbagliata. Ecco, mettiamolo qui, che è la parte che poi voi vedete. È necessario ovviamente massaggiare un po', sennò cula. È una soluzione molto acquosa, piacevole, comunque si asciuga immediatamente. Un effetto glow immediato c'è, guardate come è bello luminoso. Si vede? È bello luminoso, però forse c'è un po' di segno per l'ingertura. Ecco, si sta asciugando e quindi non profuma la pelle, non c'è alcun odore. E questo è questo produttino, che poi naturalmente questo non è un solare, quindi questo si può anche poi portare a casa e lo si userà a casa, ovviamente. C'era un capocchietto che ovviamente abbiamo già provveduto a perdere. Bene, quindi sostanzialmente abbiamo preso questo. E quindi non sono prodotti nuovi, diciamo, rispetto a quello che ho portato. Questo sostituisce la rose così che sta finendo. Questo perché l'avevo dimenticato quello dell'anno scorso, era completamente finito. Era un altro brand, però va bene. Poi questo che mi serve sul decolleté o altre parti delicate del corpo che possono un po' irritarsi. E questo è un booster di idratazione per il viso. Questo non è un solare, quindi si può usare durante tutto l'anno. Si chiama gli Allu Collagen, Collagen Intensive di Natur Unique, che è un brand coreano. Questi invece sono tutti i Rilas Feel, che è un brand italiano famosissimo. di cui ho anche altri prodotti, di cui vi ho parlato anche nel video sulla vanity table, sicuramente. Amiche e amici, abbiamo finito questo piccolo video. È qui l'assistente, quindi vi può salutare. Ciao cari! Alla prossima, naturalmente, ricordatevi sempre di fare ciò che vi fa stare bene. Che silenzio pazzesco che c'è in questo momento. Abbaiato un cane, però. Non c'è treni, non c'è campane, non c'è orologio. Non diciamo troppo. Alla prossima!